Un grosso benvenuto a tutti i giocatori del D2A della Notte degli Assi, 250.000 euro garantiti. Benvenuti a tutti. Signori, siete 89 qualificati dai primi 3D1. Vi ricordo che oggi giocheremo 9 livelli. Tutti i giocatori che imbusteranno questa sera alla fine del nonno livello saranno i TM per un minimum paid di 1.500 euro qualificati al Day 3. Bocca al lupo e shuffle up and deal.